sembra che ce l'abbiamo fatta no non ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta siamo in diretta buona serata a tutti bando e convenevoli sono le 7 20 abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico e sono molto molto contenta questa sera di comunque poter vedere che ci avete aspettato quindi grazie a tutti no c'è un macello con i nomi aspetta mentre io sistemo i nomi perché adesso c'è ok questa no io non voglio essere daniele fanelli assolutamente no allora mischiate un po le carte ecco io sto a roma ecco qua eccoci qua ce l'abbiamo fatta ce la stai facendo sudatissima c'ho le scelle che mi sudano grazie di questo assoluto contributo benvenuta a barbara ce l'abbiamo fatta ciao barbara è stata bellissima fai di cognome fanelli non siete parenti vero bel cognome complimenti brava no non siamo parenti non ho parenti fanelli ci siamo scoperti qua fughiamo subito qualsiasi dubbio non sei raccomandata non sei parente quindi molto molto bene allora barbara devo dire la verità che tra gli spettatori diciamo della nostra rubrica se così la vogliamo chiamare tu sei una delle più assidue e noi non possiamo che ringraziarti è vero sempre prima come come partiamo con la diretta proprio c'è barbara farelli sta guardando è solo che invece questa sera con barbara mannaggia si è inceppato l'imprevisto porca miseria è da dire che magari l'abbiamo anche fatto apposta non lo saprete mai magari una tecnica di comunicazione perché tra via crucis questo quell'altro devo dire la verità abbiamo patito pure noi stasera vero daniele a proposito di via crucis io voglio dire una cosa ecco anche la mia telecamera ci si mette complimenti allora sarà la mia barba per anni per anni vi assicuro che a roma la via crucis è stata fatta al colosseo sotto la pioggia battente nel senso c'era il papa poveraccio che in me gli ombrelli un disastro adesso ci sono 23 gradi a roma c'è sempre estate una cosa allucinante vabbè e non si può fare la via crucis stupendo anche a milano fa molto caldo e penso anche a pomezia giusto pomezia si trova vicino roma no devo passare tutto il volume eccolo qua benissimo così i commenti beh diciamo che dove sta pomezia che sta nel lazio che siete sempre lì più o meno quello l'abbiamo qua esattamente sulla cartina i milanesi diciamo che non è che proprio roma l'amino moltissimo ecco ma parla conto alle sette e mezza ma chi se ne frega tu puoi mettere quello che diciamo noi con quello che dice conte tanto c'era sempre le stesse minchiate su dai la bellezza della nostra ospite di questa sera è che è una donna che ha avuto tantissime fasi nella sua vita perché tu mi hai raccontato che in realtà è solo tra virgolette da 12 anni che fai l'amministratrice giusto dal 2008 precisamente da iniziato ho iniziato per gioco ho iniziato per gioco perché la mia precedente attività era dipendente di una società di trasporti perciò responsabile amministrativa in una società di trasporti per gioco contro la volontà del mio papà perché mio papà non amava gli amministratori essendo una scensurista non amava gli amministratori e ho deciso poco dopo la sua mancanza tre anni dopo di iscrivermi all'associazione e prendere il patentino di amministratore aspetta come si chiama tuo padre rolando a per fortuna scusa franco di cosa ci mancava solo e si chiamava franco avevamo chiuso no vabbè comunque un nome nella famiglia mi sembra che detto che ci sta in comune un nipote che si chiama gabriele gabriele sì 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 gabriele fanelli che fa l'amministratore di condominio ancora piccolino a 19 anni il mio il mio gabriele che mio cugino fa fa l'amministratore di condominio quindi anche lui non farò mai fare gli amministratori condominio ai miei nipoti ma brevissima ce la scampiamo particolarmente colpito barbara in pre intervista è stata la lucidità con cui tu hai deciso di affrontare la professione per cui tu hai detto non ho fatto per tutta la vita l'amministratore e molto probabilmente non continuerò per non raccontaci un po le tue idee non voglio continuare perché già da un po di anni mi sono prefissata il mio stop tra circa cinque anni sono abbastanza anzianotta più anziana dell'altro fanelli non si direbbe l'altro fanelli se li porta malissimo quindi ho deciso ho deciso che non voglio farlo più nello stesso modo cioè voglio arrivare ai miei cinquantacinque anni perché quest'anno anche se stiamo vivendo questa situazione bruttissima quest'anno io farò il giro di boa perciò farò i miei cinquant'anni e tra poco non si fanno gli auguri in anticipo ma te li faremo al momento giusto non manca moltissimo manca poco manca e perciò ho deciso che tra cinque anni la mia idea era per cinque anni di cambiare modo di lavorare non non essere il classico amministratore perciò non non chiudere più bilanci per me stessa ma eventualmente dare una mano dei colleghi che ne hanno bisogno non fare più assemblee per quello che stressano di più perché finché contabilità va tutto bene a quando bisogna andare a fare le assemblee che poi a roma sicuramente daniele avrà la stessa situazione non durano un'ora ma io sorrido perché dal mio punto di vista il bello di fare questo mestiere è proprio l'assemblea è proprio il palco a me veramente se uno mi mette a chiudere un bilancio non saprei veramente che riesci prendere e quindi io al contrario io farei solo assemblee e dipende quanto ti durano le assemblee barbara ma hai mai pensato di avere una socia milanese io faccio l'assemblea e tre giorni vengo a fare ti fa il gioco dello scogliatto lo sei finita non lo fare questa mattina però era rimasto sopra il cervo sopra la schiena del cervo a un certo punto ritornato sull'albero e sull'albero si non si è capitato dalla schiena del cervo all'albero no quando hanno detto chi anda io stavo stavo rotolando per terra stavo morendo ma no io voglio dire una cosa di barbara che mi ha mi ha colpito particolarmente di questi incontri via any desk che abbiamo fatto e voi vi siete mai conosciuti dal vivo è una conoscenza solo virtuale solo virtuale lei mi ha scritto una volta no no una volta daniele sono venuta un tuo incontro non ci siamo presentati perché tu eri assalito da da tutte le persone che c'erano ragione venuta qui a roma quando ho fatto l'incontro di roma beh aspettavo di di conoscerti ma non 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 ti sei presentata che che ne so vabbè spero che è stato divertente quell'incontro insomma basta la pena come basta la pena conoscerti anche però di barbara ecco meno complimenti meno no di meno poi sembra siamo parenti insomma no tra l'altro mi fa molto piacere il commento di flavia silva buonasera sono flavia ed essendo iscritto da poco tempo a questo gruppo colgo l'occasione per salutare tutti esprimendo orgoglio e fierezza che questa sera la capitale roma sia rappresentata da una grande professionista barbara fanelli allora sì capitale roma c'è politica naturalmente certo grande professionista barbara invece non ho nulla da dire assolutamente sicuramente ti sto per buttare fuori dalla conversazione io c'ho il mouse quello vedi guarda adesso te lo metto qua te lo metto questo ti butto fuori ricordo che la prima volta che ci siamo conosciuti o t'ho detto cammi e roma non fa la stupida stasera e ti sei rifiutato ma quindi senta no diciamo qualcosa di stavo dicendo una cosa seria importante insomma quello che mi è piaciuto di di barbara nel nel negli incontri virtuali che abbiamo fatto su any desk che anche lei ha preso in mano la situazione e ha iniziato a divertirsi con con domo studio ma poteva essere un qualsiasi altro gestionale per carità di dio però ha voluto iniziare a divertirsi e a guardare la patrimoniale a guardare i movimenti di cassa guardare i movimenti di conto corrente postale a fare le riconciliazioni e a far quadrare la cassa e il conto corrente cosa che già faceva prima però io credo che adesso hai un po più di coscienza di quello che sono i numeri e come sono distribuiti sulla patrimoniale in generale sul rendiconto quindi chapeau anche se in questo momento non me lo posso levare sennò abbaglio barbara tu sei di estrazione contabile io sono sei di estrazione contabile mi sembra di capire di no no bene e più o meno per avere una consapevolezza contabile sicuramente avrai magari letto avrai fatto un po di cose quante sessioni avete fatto un'idea attento a quella che rispondi perché è a trabocchetto questa domanda è perché vuole che gli facciano le lezioni che ho fatto a te no assolutamente no 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 io ho valentina e ho lei e quindi va bene ok io con daniele di any desk ne abbiamo fatti cinque sei ecco fatto sono finito barbara adesso sono finito tranquillo io una e mezza si si interromperà tra poco perché daniele sverrà la sto per buttare fuori quindi tranquillo non c'è va bene la data nella devi capire se tu sei a milano io sono a roma sono più vicina o più possibilità di mettermi su any desk con daniele guarda la distanza di distanza mi hai detto che tu hai scelto di schermare i condomini di amministrare un piccolo nucleo di condomini mi hai detto circa una ventina giusto adesso ne ho circa 20 quindi hai fatto comunque una scelta professionale di dedicarti molto bene a un piccolo gruppo di condomini sono tutti vicino al tuo studio oppure sono dislocati anche nelle città vicine no no sono in zone più che città sono in zone diverse perciò non ho tutte nella stessa zona da dall'eura da ciglia comunque non di santissime fino arrivo fino a nella zona di san paolo sempre a roma però comunque sia non sono un'unica zona di roma bene e più o meno ogni quanto vai sui condomini perché abbiamo visto che statisticamente chiamano condomini quindi com'è un po il tuo approccio raccontaci un po allora io spesso vado sui condomini se necessiti andarci cioè se ci sono sopralluoghi da fare incontri con fornitori o se sono richieste dai condomini fino a questo adesso fino a cinque anni fa ero fissa in alcuni condomini perché mi richiedevano le l'incasso quote una volta al mese e soprattutto sì soprattutto un condominio che amministro da 12 anni perciò da quando ho deciso di fare questa attività ogni mese andavo a fare incassi iniziavo alle 6 di sera e terminavo alle 10 e poi ho deciso visto e considerato che la tranquillità sulle città non si può avere essendo pure donna ho deciso di dare stop a questa a questo servizio ecco questa è una cosa che abbiamo affrontato anche in altre in altri incontri in altre interviste anche se non si può dire anche oggi schiena l'ha ribadito no e questo discorso di essere amministratrice donna apriamo un secondo una domanda l'hai visto tu il webinar di schiena ti è piaciuto io no non l'hai visto ok daniele ti è piaciuto tu l'hai visto sì 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 pieno di concetti forse francesco mio un po un po troppo prolisso ci vuole un po più però è sempre un luminare di quello che è la contabilità perché scende nelle nelle proprio nelle virgole di ogni numero di ogni parola di ogni singola quindi bellissimo bellissimo incontro forse un pochino prolisso tutto lì ma insomma fa parte di quello che è francesco sennò si chiamerebbe andrea giuseppe marco insomma e quindi niente la domanda è quella di come vedi questa professione al femminile nel senso proiettata nel femminile come l'hai vissuta tu al femminile perché io qualche volta ho fatto anche a botte con con i condomini nel senso siamo finiti proprio a capocciate io no capocciate però a discussioni forti sì perché comunque sia la donna sempre un passo in più daniele sì 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 abbiamo detto è confermato in tutte le tutte le attività non sono solamente come gli amministratori però abbiamo un passo in più è vero è vero e che dire non cioè bisogna pure tu dici fai i discuti con i condomini da uomo puoi metterti a discutere in modo diverso però anche noi donne comunque sia cioè a me è capitato nelle assemblee discutere abbastanza animamente con con condomini poi ci sono condomini intelligenti che liticano o discutono in modo più carino ci sono quelli che si presentano con pistole ma in quel momento ti devi trasformare non sei una donna ma ti devi trasformare a modello uomo perciò devi prendere le redini in mano farvi capire che determinate cose certo è drammaticamente vero quello che stai raccontando certo della cosa al femminile io dico sempre quando noi parliamo delle segretarie dei collaboratori parliamo sempre al femminile non parliamo mai al maschile proprio perché sappiamo che le ragazze le collaboratrici le segretarie chiamatele come volete e al femminile fanno sono impostate un certo modo prendi il maschietto il collaboratore maschietto fa la metà di quello che fa la donna quindi assolutamente un applauso e un pregio nell'avere collaboratori donne proprio perché avete un passo in più nel tipo di attività poi vabbè è chiaro che è soggettivo no nel senso io parlo della oggettività della cosa però mi rendo conto che avere un collaboratore donna a una marcia in più ma allora io ti sicuramente in quanto esponente del genere femminile ti grazie di questa affermazione ma non mi sento di condividerla nel senso che io personalmente sono pro parità che non vuol dire che creda che uomini e donne sono uguali ma auspico che in un lontano futuro l'uguaglianza ci sia veramente e di conseguenza penso che tutte quelle come tecnicamente si chiamano le skill le caratteristiche femminili si possano trovare anche in un uomo esattamente come quando andiamo in cantiere con le scarpe antifortunistiche il casco non ci ridano dietro i muratori cioè questa è veramente la speranza che ho no dipende come come ti relazioni come ti mostri secondo me tutto di buono e tutto di positivo nel senso senti barbara e invece io lo so la risposta la conosco la migrazione e il post migrazione da bgc a come l'hai vissuta ah beh l'ho vissuta abbastanza abbastanza male vabbè io sono un ex tgc sono un ex tgc ho iniziato con pgc perciò per se sono 12 anni che faccio questa attività diciamo la verità sono in gennaio ho fatto 12 anni perciò sono 12 anni che ho lavorato su pgc e l'ho vissuta male anche se all'inizio domus non era il mio gestionale preferito perché lo vedevo troppo complicato troppo articolato e non volevo non avevo intenzione di lavorarci lo dico pubblicamente grazie a daniele fanelli però me l'ha fatto vedere sotto un'altra visuale perciò ho apprezzato domus studio è un gestionale che vale è un gestionale che ti permette di semplificare il lavoro essendo poi amministrando 20 condomini sono da sola non ho collaboratori certo e perciò gestisco sia contabilità che parte esterna come amministratore e oggi sono sono contenta e sono contenta di lavorarci sono contenta e questo è il motivo perché come ha detto prima daniele sono la prima quando ci sono video quando ci sono presentazioni rispondo prima perché perché mi interessa conoscerlo ancora di più anche se ho un limite nella nella mia attività ho detto cinque anni può darsi saranno sei però insomma studiare un gestionale mi servirà anche per il modo diverso di lavorare certo hai le idee sul medio termine comunque molto chiare questo ti fa lode arrivano un po' di commenti li leggo la nostra amica patricia da milano dice ma solo con me era sempre occupato no patricia tranquillamente anche per me evidentemente il nazio ha la precedenza sulla lombardia ero a telefono con barbara mi dispiace per voi perfetto arrivano tanti commenti francesco che abbiamo avuto ieri sera daniele è stato come per me la luce in fondo al tunnel con questo gestionale tanti commenti e complimenti al collega io guardate non ho fatto altro che farlo prima l'ho detto nel senso che l'ho affrontato prima e l'ho digerito prima l'ho scritto che l'ho digerito a un certo punto io ho contestato tutta la migrazione ma a un certo momento ho deciso di digerirlo ho aperto il manuale e l'ho letto dalla pagina 1 alla pagina 7568 ho detto vabbè e ho cominciato a cliccare infatti ho una domanda per barbara perché nel momento in cui si lavora da sole a me è capitato chiaramente all'inizio di essere da sola il dramma è quando ti devi mettere un po il cappello da contabile poi il cappello da geometra poi sei la problem solver e mi è capitato diverse volte un po di raccontare gli escamotage che utilizzavo nel tentare di sembrare uno studio strutturato pure di fatto non essendolo ho iniziato anch'io da sola dal mio condominio esattamente come te e quindi mi domando che tipo di approccio hai alla formazione chiaramente in questo momento di coronavirus siamo tutti a casa abbiamo Daniele che fa i video abbiamo i live ufficiali di Danè abbiamo il manuale come riesci a sposare una formazione o come come l'hai gestita in questi 12 anni non parlo solo di DM140 di gestionale ma di tutti gli approfondimenti legati al nostro lavoro l'ho gestita tranquillamente cioè allora io ho iniziato da sola perciò la maggior parte della mia attività era senza collaboratore poi fino a poco tempo fa per un paio d'anni ho avuto la collaboratrice che poi ha deciso di smettere la mia formazione va tranquillamente fa parte del dell'agenda e come andare a fare un sopralluogo un fornitore ci sarà nella giornata che c'è da fare un aggiornamento e mi programmo di fare l'aggiornamento magari non farà contabilità o comunque la fai in un orario diverso perciò infatti è il motivo del termine della mia attività è proprio questa perché io posso dirvi che inizio la mattina alle 7 ma termino la sera alle 3 di notte se ho degli impegni che possa essere una formazione che possono essere degli incontri sopra luoghi o assemblee Barbara ma questo mi è permesso perché non ho figli perciò la mia vita è composta senza una famiglia vera nel senso senza gestire un bambino o una bambina ho più tempo a disposizione perciò metto in agenda quello che devo fare compresa la formazione che possa essere qualsiasi tipo di formazione compresa il dm 140 ti fa onore quello che stai dicendo Barbara nel senso che organizzare il proprio studio organizzare la propria giornata organizzare la formazione anche lo stesso aver preso in mano la contabilità per voluto digerire questa deportazione che abbiamo subito da PGC a Danea e tanti ancora non l'hanno digerito non sono neanche lontanamente al passo tuo te sei arrivata già per esempio alle riconciliazioni dal conto corrente che tanti ancora non neanche sanno come si fa o stanno facendo quindi lo dico in maniera pubblica e soprattutto ti ringrazio della colomba e del vino che mi hai vendato è stato molto molto divertido è stato un pensiero ma un pensiero perché comunque sei stato sempre disponibile grazie grazie non sarai diverso con gli altri sono sicura che non sei diverso con gli altri mi è molto credito lascialo agli altri giudicare no dai è disponibile per me è una cosa non è geloso del suo lavoro perciò fa in modo e maniera di porlo agli altri e darlo agli altri perché io dico nella vita e questo oramai sono ho cominciato a lavorare forse troppo presto però tanto ognuno di noi non deve essere geloso del proprio lavoro perché quello che so fare io non so fare un'altra persona e non essendo geloso possiamo insegnare tanto del nostro a qualcuno che può metterlo in atto e comunque dovremmo essere soddisfatti io penso che Daniele è soddisfatto a insegnarci a noi a farci da maestro tra virgolette per questo gestionale o per qualsiasi altra cosa perché comunque penso che di bagaglio culturale ne è abbastanza ma io guarda non ho la pretesa di insegnare qualcosa e Daniele mi rimprovera sempre perché parla di formazione io ho solo fatto vedere anche nei video come faccio io quello che faccio io ed è l'introduzione che ho fatto credo al corso che sei venuta a Roma dove ho detto io non sono qui per insegnarvi nulla vi faccio vedere quello che ho fatto io come lo faccio io probabilmente con errori però fatelo e basta perché funziona appunto quello è il discorso e poi piano piano a forza di smanettare cliccare a caso come dice Gianni Salvati le cose si fanno insomma e uno prende coscienza che va fatto e si fa insomma ecco questo è il discorso Daniele tu quanti condomini hai circa? posto che sappiamo non si dovrebbe ragionare di condomini ma di nulla di unità abitative di? unità abitative quante assemblee fai all'anno? quanti condomini hai? tanti e tante non ci dai un numero? no ok che cosa Barbara tu con la metà dell'esperienza di Daniele in termini di anni e probabilmente la metà dei condomini non lo so perché non ci sta dando un numero che cosa puoi insegnare a un amministratore così blasonato? qual è il tuo punto di forza? nel sentire le interviste forse l'unica cosa che posso dire a Daniele dedicati un po' più ai condomini perché te lo stai ripetendo spesso che ti manca questa cosa diciamo che nel nostro lavoro loro si possono dire coccolati ogni tanto coccolati perciò sono i nostri figli no? i nostri bambini che vanno ogni tanto coccolati però da amministratore ti dico anche e non voglio insegnarlo ti dico non dare troppa disponibilità non fare come l'errore che ho fatto io che ho dato troppa disponibilità da un dito loro si prendono un braccio e non ti fanno fermire neanche la notte e questo lo sai benissimo sicuramente l'importanza dei rapporti interpersonali tornando ad un aspetto comunicazione è fondamentale quindi il contatto chiaro che quando si va a trascurare un rapporto interpersonale poi questo rapporto interpersonale muore è evidente per cui con i condomini è particolarmente importante concordo sapete che io ho sempre fatto l'amministratore giudiziario dove mi chiamano per risolvere problemi gravi dei condomini e questo fatto mi ha evidentemente un po' allontanato dall'aspetto di contatto con il condomino e quindi arrivo se fa così o fate così o non me non pede le balle punto e basta perché devo dare risposte devo dare risposte al tribunale quindi fatto una volta, due volte, cento volte, duecento volte quando prendi i condomini in gestione ordinaria ti comporti allo stesso modo io devo ringraziare un po' tutti voi di questo contatto di questi incontri di queste confidenze che stiamo facendo di questi confronti che stiamo facendo tra di noi perché a un certo punto viene fuori l'aspetto umano che è molto importante come dici tu di non dargli il dito perché si prendono un braccio spero che con questo coronavirus che stiamo purtroppo ancora vivendo ci possa essere stato una sorta di reset dell'educazione, del rispetto, della professionalità speriamo in una nuova vita io francamente per me quella situazione del coronavirus non è cambiato perché i miei si comportavano bene prima e si stanno comportando egregiamente adesso è vero anzi o forse ecco per questo motivo perché mi scelgo i condomini certo bello, molto bello e infatti a proposito di virus sto sentendo diversi colleghi in questi giorni che hanno deciso di adottare dei presidi particolari ad esempio erogatori di sanificante negli ascensori sono arrivate anche diverse offerte per i miei condomini piuttosto che sanificazioni o altro ti chiedo nella tua zona tu come hai deciso di affrontare questa criticità? i miei condomini per il momento non hanno chiesto nessun tipo di sanificazione perché per fortuna nei miei condomini vengono sanificati normalmente quando facciano i passaggi delle ditte di pulizia l'extra non l'hanno voluto quindi comunque stanno già utilizzando anche detergenti vengina, cose del genere già da tempo? sì, cioè da tempo comunque sia l'attenzione c'è ma adesso un po' di più perché purtroppo stiamo vivendo una situazione orribile certo, certo te lo chiedo perché chiaramente ci tengo tantissimo a confrontarmi in questi giorni con i colleghi che sono al di fuori della mia regione io essendo in Lombardia vivo in una situazione chiaramente un pochino diversa perché qui i numeri sono un po' diversi abbiamo iniziato prima e quindi come è normale vedo che molte regioni e molti colleghi mi stanno anche contattando per capire che cosa stiamo facendo noi qua in maniera tale da poi magari dire va bene, quando arriverà da me sarò più pronto perché ho un precedente in realtà ne parlavo questa mattina con Daniele ero in dubbio se martedì riapriro meno un servizio di porterato che è chiuso da un mese ho chiamato i vigili, ho chiamato il sindacato dei portieri ho chiamato tutti, non c'era nessuno che mi dava la stessa risposta quindi evidentemente poi ho dovuto agire un po' di pancia e quindi mi interessa anche molto comprendere come decidiamo di affrontare situazioni che per antonomasia come questa sono di fatto imprevedibili come pensi di organizzarti con le assemblee? il vantaggio di avere pochi condomini è che anche se si dovesse creare una fila di assemblee la riesci a smaltire sicuramente in un tempo più breve di quello che poi farà Daniele o i colleghi che hanno più condomini invece vogliono due anni a me, non le farò neanche per l'anno prossimo il segreto è la doppietta, un'assemblea alle 6 e un'assemblea alle 9 alle 6 di mattina e l'altra alle 9 di sera perché comunque il tempo è lungo allora io non è perché ho 20 condomini faccio poche assemblee ne faccio solamente 20, anzi sicuramente ne faccio molti più di 20 perché ogni anno essendoci tante straordinarie il mio anno lavorativo è composto quasi tranne agosto quasi sempre ad assemblee le gestirò un po' sono un po' preoccupata perché se mi metto a paragonare lo scorso anno che io il 28 febbraio avevo chiuso completamente tutte le assemblee e avevo fatto anche già delle straordinarie quest'anno invece non so come fare accendi una luce Barbara devi accendere una luce perché comincia a essere buio sì esatto il nostro amico Paolo Tagga ci dice che sono a 13 condomini sanificati triste sì Paolo ti capisco e sul gruppo oggi ho condiviso anche io un po' di emozioni sensazioni chiedendovi un consiglio perché è triste allora guardate a me è successo in un condominio qui che è morta una persona i condomini in maniera molto serena mi hanno contattato mi hanno chiesto di fare la sanificazione la cosa sintomatica che vorrei condividere con voi è che mi hanno chiesto di attuare il protocollo di questo tipo di situazioni allora la domanda che faccio a tutti siamo sicuri che esiste un protocollo inviato a tutti gli amministratori a tutte le associazioni che hanno informato gli amministratori di condominio di come si reagisce in questo tipo di situazione e quale protocollo seguire oppure quello che ha detto prima Daniela in caso di portierato qual è il protocollo da seguire emanato dalla cassa portieri o dalle associazioni di amministratori di condominio che avranno concordato con il governo sono delle azioni da fare qui ritorno al discorso della ci sono mancate le associazioni cioè le indicazioni qui stiamo andando tutto all'adhiaccio tutto a quello che può essere il nostro sentimento di risoluzione di una problematica muore con un estremo dispiacere una persona all'interno di un condominio e noi ci troviamo di fronte al discorso e adesso che facciamo? va bene, sanifichiamo e ti devi affidare delle ditte specializzate tra virgolette sperando che utilizzino dei prodotti idonei e poi sull'idoneità bisognerebbe aprire tutto un altro capitolo ma vai avanti con delle tue linee guida quello che ti può suggerire il buonsenso ma non esistono delle linee guida e ulteriormente in questo ma me ne assumo le responsabilità non ho nessun tipo di problema ci sono mancate nuovamente le associazioni di categoria che non hanno in nessun modo e in nessun ambito trasferito a noi amministratori comunicati di comportamenti vi ricordo che la lettera mandata ai condomini comunque abbiamo messo a disposizione Daniela ed io che poi l'abbiamo utilizzato a meno ma noi abbiamo messo uno strumento da mandare a tutti i condomini su un blog su Facebook che è un gioco quindi doveva essere un'associazione di categoria le associazioni di categoria che in concerto con altre associazioni di categoria in concerto con il governo dovevano dare delle linee guida molto chiare agli amministratori condominio anche perché purtroppo la gente che sta male che purtroppo muore muore dentro i condomini si sente male dentro i condomini e che cosa bisogna fare che tipo di protocollo bisogna attivare quindi questo è un dispiacere in cui mi sono trovato e di quello che dicevo Daniele mi permetto io di fatto una domanda tu parli spesso di protocolli perché vieni dall'ambiente militare quanto i protocolli sono immagino che chiaramente in ambito militare sia stato previsto di tutto e noi che eravamo appunto a Padova il famoso giorno zero ne abbiamo tanto parlato se fossimo positivi asintomatici noi ancora adesso non lo sappiamo tu hai fatto il tampone io non ho idea per ora sto bene ecco è la mia sensazione quanto è importante anche nell'ambito dei discorsi che abbiamo fatto con Gianluca Cipriani ragionare proprio in funzione di tentare di prevedere e strutturare dei protocolli rispetto a ciò che di fatto non è prevedibile un disaster recovery plan aziendale è il tentare di prevedere qualcosa che è veramente molto remoto il fatto è che questo è un evento così particolare così veramente imprevedibile io facendo un salto nell'ambito militare indietro nella storia facevamo già addestramento NBC nucleare biologico e chimico mi fa sorridere una situazione del genere dove l'esercito è pronto e ha attrezzature per affrontare una situazione del genere o uno stato no neanche ha attivato l'esercito per una cosa del genere ripeto abbiamo navi che possono contenere cose del genere a livello condominiale fare un disaster recovery plan non ho idea a livello di studio non tanto tentare di prevedere per il futuro situazioni come questa e il fatto è che cosa prevedi nel senso un terremoto uno tsunami un meteorite che cade su Roma è difficile fare una previsione poi ti ripeto in questo dovrebbero essere come nell'ambito militare le associazioni che ci dovrebbero dare dei protocolli nel caso di disastro di come è successo anche a un collega qui in Roma del fatto che una signora ha fatto su lungodevere dei lavori all'ultimo piano gli è crollato il balcone perché avevano messo sul balcone ma è andato in caccia l'amministratore di condominio perché non ha controllato e quello è un padre di famiglia qual è il protocollo in queste situazioni dobbiamo controllare come aveva detto Francesco l'altro giorno controllare ogni tipo di lavoro che fanno dentro l'appartamento cioè oggi ci vengono addossate un milione di responsabilità rispetto a prima però manca il riconoscimento voglio l'albo voglio l'albo e l'albo è sinonimo di professionalità perché l'appartenenza all'albo significa anche protocollo allora Barbara il nostro collega Paolo scrive il problema è che come al solito ti devi parare parare tra virgolette l'unico modo è produrre carta sempre più triste che cosa pensi di questa affermazione del collega siete molto lontani per età per formazione per regione perché il collega Paolo che citiamo spesso è di Milano e sarà nostro ospite nelle prossime settimane quindi ci tengo a capire se può essere costruito un asse Roma Milano produrre carta come dice Paolo si ma veramente avvisare i condomini con ti devi far certificare tutto Barbara nel senso che ti devi far mandare scusa ma volevo sentire la risposta di Barbara no no si scusami era uno sfogo devi far certificare tutto sappiamo che dobbiamo farlo e comunque se quando fai qualche cosa che possa essere la sanificazione siamo obbligati ad avere la certificazione per poi farla controllare i condomini se fanno le cose giuste ma non è solamente una sanificazione è una disinfestazione una restituzione comunque siamo pieni di carte pieni di documenti o carta come la vogliamo chiamare però riconoscimenti zero riconoscimenti zero cioè noi dobbiamo avere tutti i certificati dobbiamo essere tutologi in tutte le materie infatti noi siamo i tutologi ma i tutologi non riconosciuti hai detto bene tu siamo tutologi non riconosciuti ma nessuno nessuno comunque sia nessuno vuol dire le associazioni soprattutto perché noi quando decidiamo di fare questo lavoro andiamo presso un'associazione per studiare per capire cosa andiamo incontro per capire che tipologia di lavoro andiamo a fare giusto perciò chiamiamolo ignorantemente il famoso patentino quando io l'ho preso nel 2008 perché loro non ci danno una mano a nulla io la mia associazione francamente non la non la amo ci sono iscritta continuo ad esserci iscritta ma non la amo perché a me non mi ha mai dato una mano mai a nessuno analogamente la mia infatti l'ho detto qualche settimana fa senza dire il nome dell'associazione ma io ho mandato la disdetta sia perché comunque come formatore collaboro con tante associazioni quindi non trovo giusto stare sotto una bandiera sia perché se è solamente il balsello da pagare la quota associativa senza avere nessun genere di servizio di formazione o di altro solo per farmi fare il compitino del DM 140 allora ci sono tantissimi professionisti parlavamo prima di Francesco Schena io l'anno scorso il DM l'ho fatto con lui l'anno prima con Ivan Giordano e quindi mi affido a grandi nomi che sono fuori dalle logiche associative e so che in questo Daniele la pensa in maniera molto simile a me vi faccio l'ultima battuta finale perché avendo iniziato tardi chiaramente purtroppo siamo arrivati all'orario in cui il papà di Daniele richiama l'ordine per la cena quindi dobbiamo andare tutti a mangiare mi sta a guardare già mi ha scritto è pronto non è Pomezia io non sono di Pomezia no oddio che ho scritto Pomezia invece Roma 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 ah ok lasciamo perdere che momentaneamente sono attorsa a Lorenzo Ardea o Ardea però io sono di Roma mi sono sbagliato con Gianni bene e senti Barbara ti chiedo in via eccezionale come abbiamo chiesto anche a Romina che ha tante tante cose da dire visto che ci siamo dedicati un po' di tempo e il coronavirus andrà a temo per le lunghe ti andrebbe poi di ritornare nostra ospite più avanti? magari parliamo di coronavirus che è sperito sì magari speriamo sì ci sarebbe molto molto piacere perché purtroppo questa sera la chiacchierata è stata breve ed è anche una serata appunto un po' particolare esatto e di conseguenza non abbiamo avendo poi avuto oggi il dopo appuntamento non abbiamo il consueto audience chiamiamolo così vabbè come al solito le puntate sono sono assolutamente registrate quindi poi ognuno se le va a guardare con calma non lo dire sennò non le vedono live Daniele no no ma a me fa piacere tanto insomma live è il bello della diretta è come un film guardato dopo tanto c'è sempre qualcuno che te lo spamma no che ti fa ti dice sempre un dicesimo comandamento non spoilerare non spoilerare è quello che vince a casa mia è l'unico che sta a mio figlio di otto anni un dicesimo comandamento non spoilerare capito già che ti dicono ma l'hai visto il video di ieri sera con i due fanelli capito lì già già ammazzi la gente no perché me l'hai detto io volevo vedere che cosa ci erano detti va bene no la cosa che mi fa particolarmente piacere è che i tuoi video sono stati oggetto di tante tante simulazioni queste chiacchierate sono particolarmente copiate ma i numeri che ad oggi abbiamo noi non ce li ha nessuno quindi veramente augurando io non so chi ci seguirà quanto ci seguirete nei prossimi giorni perché sono giorni dove è giusto stare in famiglia e per chi è credente fare delle riflessioni a maggior ragione mi sento così un po' come portavoce del gruppo e chiacchierona del gruppo di fare a tutti gli auguri da parte mia da parte di Daniele di Valentin di Gianluca Cipriani e naturalmente di Barbara Fanelli a tutti i migliori auguri di Buona Pasqua grazie a tutti grazie a Barbara grazie a tutti Buona Pasqua grazie a voi buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti